Questa è bellissima, questa veramente è una delle telefonate più belle che ho ricevuto dai call center. In questo caso non era un call center, ma si trattava di una televisione che mi ha mandato dopo su richiesta e ci ho messo un pezzo a fargli capire che infochiocciola è il prefisso per mandare l'email, l'infochiocciola, il mio indirizzo email, eccetera. Comunque, vabbè, al di là di quello, mi hanno invitato a partecipare a una trasmissione televisiva che racconta la storia dell'imprenditoria italiana. Al che io mi sono chiesto? Moi? Cioè tu hai invitato me veramente? Hai invitato me? E quindi gli ho chiesto, anzi lei ho chiesto, su serio lei vuole intervistare me? E questo ha farfugliato a malapena il mio nome, prendendolo da qualche cosa che appare su qualche social, per cui Italian voice over talent, speaker, lì mi sono reso conto che non è che stesse parlando con me, cioè non sapeva, non avevo neanche idea di chi fossi io, no? Quindi, ok, va bene, mi dica in cosa consiste questa iniziativa. Lei viene in studio da noi, può partecipare a una diretta radiofonica e televisiva, perché c'erano tutte e due le cose, dove uno speaker professionista la intervisterà per raccontare la sua storia. Un attimo, aspetta, speaker professionista, lo faccio io? La racconto io la mia storia, se vuole, signori? No, no, noi abbiamo i nostri professionisti che la aiuteranno in questo... Sì, ma, cioè, io lo faccio di mestiere? Il mio lavoro è essere speaker professionista, quindi se devo raccontare il mio mestiere e dall'altra parte c'è uno che fa il mio mestiere, allora o chiacchieriamo io e lui del nostro mestiere? No, no, lei non ha capito. Noi abbiamo una scaletta, lei ha dieci minuti di tempo, partecipa a questa trasmissione, viene da noi, e uno speaker professionista la intervista... Uno speaker o un giornalista? Uno speaker professionista... Ma io sono uno speaker professionista! È lo stesso, lei avrà uno spazio gestito da uno speaker professionista. Ok, ho capito. Può mandarmi via mail tutte le informazioni riguardo a questa bella iniziativa? Tra l'altro dove siete? Siamo in culo al mondo, in fondo all'angolo, a destra. Cioè, dove andare da loro fisicamente per fare questa intervista? Non ho ancora capito quanto si paga per fare questa intervista. Sarei veramente curioso di andare per conoscere lo speaker professionista, se non altro per quello. Ciao!